Costabile Spinelli è stato l'unico sindaco che nel 2018 si oppose alla decisione regionale sulla redazione del piano ospedaliero e per questo vogliamo approfondire maggiormente l'argomento con lui e capire anche quella che fu la risposta del Tar per poi continuare in quella che è la nostra iniziativa a favore dell'ospedale di Agropoli, pure perché dobbiamo sapere che entro il 31 dicembre 2021 ci sarà il termine di questa emergenza Covid e quindi non sappiamo ancora quale sarà il futuro del nostro nosocomio, Costabile. Sì, grazie Gianni innanzitutto dell'occasione che mi dai per tornare su questo argomento che è un argomento molto sentito, molto vivo anche alla luce delle ultime e disgrazie purtroppo che hanno toccato questo territorio, che non possono lasciare nessuno indenne oppure ci fanno capire ancora, se ce ne fosse bisogno, di quanto è drammatica questa situazione, questa carenza del nostro territorio. Noi nel 2018 facemmo questo ricorso al Tar perché impugniamo il decreto del commissario ad acta con il quale veniva ridisegnata, riaggiornata la rete ospedaliera, ma per un motivo molto semplice, che faceva riferimento a un DM, il 70 precisamente, che stabilisce degli standard nazionali, cosa che con quell'aggiornamento, almeno per quanto riguarda l'ospedale di Agropoli, non erano salvaguardati, non erano garantiti, per cui le prestazioni erogate non erano quelle previste dalla legge nazionale e siccome io credo fortemente che non ci può essere disparità di trattamento in una nazione, fra le prestazioni che hanno i cittadini della nostra area, del Cilento, di Agropoli e i cittadini magari di un'altra area della nostra nazione, c'era questa disparità, c'era questa discresia che noi abbiamo sollevato, abbiamo impugnato in un'area di tribunale, d'altra parte era l'unica cosa che si poteva fare. Nel merito il Tar non è entrato, ha semplicemente ritenuto affermare che non era la sede, in effetti eravamo di fronte a un ritardo di attuazione di quanto previsto da questo piano, per cui non era la sede competente, ma bisognava fare un'azione di sensibilizzazione, di diffida, di protesta nei confronti dell'ASL perché alla fine potesse attuare e uniformare questo piano a quelle che sono le previsioni della legge nazionale. Mi sembra di aver capito che il Tar se ne è lavato le mani, dicendo dove... Ha detto non è questa la sede, la previsione c'è, quindi adesso va fatta un'azione di stimolo nei confronti dell'ASL affinché questo che è previsto nella legge, questo che è previsto nell'atto poi venga di fatto realizzato, questo è stato in buona sostanza e qui vengo anche alla iniziativa che io condivido e che anzi è sottoscritto proprio perché mi riferisco alla petizione, alla vostra iniziativa che state portando avanti perché credo che proprio in tema di sensibilizzazione, proprio in tema perché oggi si tende a far passare tutto sotto tono, sotto traccia, si tende a dimenticare, si tende ad avere questo effetto di quasi di superficialità, non la voglio definire superficialità, però diciamo di appiattimento, c'è il rischio di abituarsi poi a questo stato di cose e questo è gravissimo e non lo possiamo consentire, quindi va dato merito alla vostra iniziativa che ho sottoscritto perché bisogna far sentire forte la voce, è evidente e aggiungo che forse se in quell'occasione anziché di far arrivare un solo comune con un ricorso, noi avessimo avuto la possibilità di far arrivare tanti comuni, più comuni a sollevare una rete, una rete di persone che anche rispetto a un problema così importante, se prendo ad esempio gli operai della Whirlpool che sono dinanzi ai tribunali, forse non uno, ma più comuni, presenti, costituiti in questo giudizio forse avrebbero indotto anche a fare delle decisioni non tanto pilatesche, ma forse entrare nel merito e dire questo è il momento buono perché ti diffido a fare quello che è previsto negli atti aziendali. Qual è il consiglio che puoi dare a chi vuole ancora insistere in questa protesta? Cosa possiamo fare per continuare questa lotta in virtù anche della cessazione dell'emergenza? Perché non sappiamo quale sarà il futuro dell'ospedale. di Agropo. È un momento storico importantissimo, siamo io credo un momento cruciale, il piano nazionale, il PNRR di cui si sta tanto parlando, mette a disposizione delle risorse ingenti, sono sei le emissioni che questo piano prevede, la sesta riguarda la salute, quindi c'è un tema importante che riguarda la salute, proprio perché c'è questo ritardo nella nostra nazione, i LEA, i cosiddetti livelli essenziali, devono essere adeguati all'intero territorio nazionale, per cui gli investimenti, e parliamo di 15 miliardi, quasi 16 miliardi che sono destinati su questa missione, quindi ripeto la 6, che è dedicata alla salute, devono essere spesi.